Ipoxi, l'alternativa naturale alla liposuzione. Un corpo snello e tonico è il sogno di tutti. Purtroppo, sedentarietà, alimentazione scorretta e naturale processo di invecchiamento possono causare accumuli di grasso difficili da debellare, specialmente se il nostro fisico è costituzionalmente predisposto ad ingrassare. Perché è così difficile ridurre il grasso nelle zone critiche del corpo? Per rispondere, è necessario comprendere la relazione che esiste fra combustione dei grassi, circolazione del sangue ed esercizio fisico. Per bruciare il grasso è indispensabile l'esercizio fisico. Infatti, solo i muscoli in movimento sono in grado di consumare il grasso come sorgente di energia. Il flusso del sangue trasporta gli acidi grassi dai tessuti ai muscoli, ma la combustione del grasso, nei tessuti adiposi, avviene solamente in caso di buona erorazione sanguigna. Nel caso di scarsa erorazione, i vasi sanguigni risultano ristretti e impediscono il trasporto degli acidi grassi. L'approfondita conoscenza del metabolismo del corpo ci ha consentito di mettere a punto un'unica ed efficace soluzione, il training per la combustione dei grassi, con l'apparecchiatura Trainer Ipoxy L250. Per la prima volta nella storia dei trattamenti del corpo, è stata creata un'apparecchiatura che combina simultaneamente due azioni. Stimolazione della circolazione sanguigna e training per il consumo dei grassi. I risultati sono sorprendenti. La soluzione rivoluzionaria del trattamento sta nella stimolazione della circolazione sanguigna attraverso la depressurizzazione combinata a leggero esercizio fisico. Questo consente di bruciare i grassi in modo mirato e specifico nelle zone desiderate. Senza Ipoxy Training, nelle zone di scarsa erorazione sanguigna, il grasso rimarrebbe ostinatamente al suo posto. Con Ipoxy Training, invece, i grassi vengono eliminati in maniera mirata nella zona delle cosce e dei glutei in modo efficace e completamente naturale. E se il grasso si accumula intorno ai fianchi alla pancia? Cosa si può fare per eliminarlo? Anche in questo caso, il metodo di depressurizzazione dinamica di Ipoxy Training risolverà il problema con successo. In questo caso, l'effetto vacuum è concentrato sui fianchi e sulla pancia grazie a un gran numero di piccole capsule depressurizzate. Durante il trattamento, ogni capsula aspira e poi comprime la pelle con un ritmo controllato da una centralina computerizzata. La fase di aspirazione aumenta l'erorazione sanguigna della pelle. Il grasso sedimentato viene attivato. Non appena il sangue è assorbito una quantità sufficiente di acidi grassi, le capsule aspiranti diventano capsule in pressione. A questo punto, oltre 100 piccole sfere massaggianti accelerano il trasporto del sangue arricchito dai grassi ai muscoli in attività. Una volta raggiunti ai muscoli in azione, gli acidi grassi sono convertiti in energia e bruciati definitivamente. Ipoxy Training con la muta vacuum out si esegue con strumenti professionali di cardio fitness come il tapirulano, il trainer ellittico o la ciclette. La combinazione di moderato esercizio fisico e trattamento vacuum è l'unica alternativa naturale alla liposuzione. L'eliminazione mirata dei grassi nei punti desiderati. Questo è Ipoxy.